L'Avvocato Massimiliano Di Cuia è candidato al Consiglio regionale pugliese con Forza Italia a sostegno di Raffaele Fitto, Presidente. Ci occupiamo di sviluppo economico del territorio e ovviamente connesso allo sviluppo economico la necessità di rilanciare l'occupazione. Sì, sicuramente questo è uno dei punti fondanti del programma della coalizione che sostiene Raffaele Fitto. Credo che intanto per quel che riguarda specificatamente Taranto noi dobbiamo partire dalla valorizzazione delle nostre risorse naturali, in primis penso al mare e a tutto quello che può ruotare dal punto di vista economico intorno a questa risorsa. Penso alla pesca, penso al turismo, penso all'ambito di cultura, penso alla canteristica navale, penso a tutte quelle attività che negli ultimi anni il governo regionale ha assolutamente trascurato e sottovalutato. Dopodiché è evidente che l'amministrazione regionale doveva farsi carico di eliminare e di rimuovere una serie di ostacoli che gli imprenditori incontrano quotidianamente nel rapportarsi con la pubblica amministrazione. Dobbiamo fare in modo che la pubblica amministrazione sia un sostegno e un supporto per le imprese, non sia più un ostacolo. E infine certamente dobbiamo partire e ripartire dalla valorizzazione dei nostri punti di forza, dal mercato enogastronomico, sicuramente importantissimo. Dobbiamo partire dall'industria tessile, ci sono tantissime imprese che soffrono una concorrenza sleale di operatori stranieri che sono venuti nella nostra provincia ad operare e che stanno determinando la chiusura di tantissime imprese. Di questi temi dobbiamo occuparci perché negli ultimi anni sono stati assolutamente trascurati.